ucraina ucraina vladimir putin e i crimini di guerra la corte internazionale dell'aia si è pronunciata vladimir putin cioè la federazione russa deve subito cessare l'ostilità ha detto la corte internazionale dell'aia perché la federazione russa non aveva nessun motivo di aggredire l'ucraina sì sì la sentenza emessa dalla corte internazionale dell'aia è recente non so ancora se vladimir putin è stato condannato per crimini di guerra non lo so io ricordo che per crimini di guerra viene condannato milosevic il capo della serbia il quale poi mi pare morire in carcere io qua mica voglio giustificare milosevic per carità perché io sono serafino massoni non giustifico mica le guerre vedete questa mia opera un romanzo storico ambientato dentro il terzo rai vedete bene da una parte c'è la stella di david e dall'altra c'è la croce uncinata vedete bene vedete bene stella di david vuol dire stato di israele bene croce uncinata vuol dire il nazismo vuol dire la shoah la shoah la shoah allora milosevic il capo della serbia fu condannato per crimini di guerra e fu spedito in carcere in carcere poi in carcere morì ma la serbia la serbia è la serbia poca cosa la serbia è poca cosa così come poca cosa è anche l'italia ma la federazione russa vladimir putin non è la serbia non è neanche l'italia la federazione russa non è neanche l'irac di saddam hussein la federazione russa è una potenza nucleare beh e allora vladimir putin che potrebbe fare vladimir putin di fronte alla sentenza emessa dalla corte internazionale dell'aia che potrebbe fare ma se io fossi vladimir putin manderei alla corte internazionale dell'aia manderei come come avvocato difensore il patriarca di mosca chiril chiril che ha detto che la colpa di ciò che avviene in ucraina è tutta colpa dell'occidente proprio così ha detto il patriarca di mosca chirile ma soprattutto io seracino massoni manderei se fossi vladimir putin manderei alla corte internazionale dell'aia manderei lo stato di israele il capo del governo dello stato di israele affinché il governo dello stato di israele dica alla corte internazionale dell'aia ma tu corte internazionale dell'aia lo sai o non lo sai che dentro dentro l'ucraina dentro l'esercito dell'ucraina c'è il battaglione azov il battaglione azov che inneggia inneggia alla croce uncinata ma tu tu cioè il governo governo israeliano all'aia in difesa di vladimir putin il governo israeliano direbbe alla corte internazionale dell'aia ma tu corte internazionale dell'aia lo sai o non lo sai che dentro l'esercito dell'ucraina c'è il pregiato battaglione azov che che inneggia alla croce uncinata di cui parla serafino massoni nel suo romanzo è il marinaio dell'antile un romanzo storico ambientato dentro dentro il terzo reich e serafino massoni parla soprattutto della stella di david stella di david vuol dire stato di israele lo stato di israele è sotto nel 1948 corte dell'aia lo sai corte dell'aia che quando sorse lo stato di israele nel 1948 il primo stato a livello mondiale a riconoscere l'esistenza dello stato di israele fu l'urse l'urse di stalin e lo sai corte internazionale dell'aia e poi il governo israeliano alla corte internazionale dell'aia direbbe ma tu corte internazionale dell'aia lo sai che l'ucraina chiese anno a noi a noi a noi a noi israeliani chiese di comprare voleva comprare l'ucraina voleva comprare il nostro sistema antimissilistico cupola di ferro e noi e noi e noi della stella di david noi dello stato di israele non gliel'abbiamo venduto all'ucraina il nostro sistema antimissilistico e e cupola di cupola di ferro perché noi dello stato di israele lo sapevamo già che che dentro dentro l'ucraina dentro l'esercito dell'ucraina c'è il battaglione il battaglione azov che inneggia alla croce uncinata e loro mi potrebbero loro potrebbero rispondere al governo israeliano alla corte internazionale dell'aia e vabbè ma quelli del battaglione azov sono pochi il popolo dell'ucraina che c'entra il popolo dell'ucraina con con quelli del battaglione azov eccetera e il governo israeliano avrebbe risposto e vabbè ma il battaglione azov è riconosciuto ufficialmente come parte integrante dell'esercito ucraino e se se il battaglione azov che è filo nazista fa parte integrante dell'esercito ucraino uno può immaginare che poi in ucraina siano tanti filo nazisti ce ne siano tanti tanti dei filo nazisti potrebbero fare l'esempio dell'italia governo israeliano potrebbe fare l'esempio dell'italia nella cui costituzione c'è scritto che è evitata la ricostituzione del partito del partito fascista e il governo israeliano potrebbe dire alla corte internazionale dell'aia ma ma perché nella carta costituzionale dell'ucraina non c'è scritto che è evitata la ricostituzione del partito nazista perché perché ecco queste sono tutte le considerazioni che fa serafino massoni per chi non lo sapesse serafino massoni è questo signore qua vedete serafino massoni nasce a volta a mantovana nel 1940 qua preciso che serafino massoni è nato a volta a mantovana nella prima decade decade del febbraio del 1940 per cui serafino massoni ha già compiuto 82 anni ed ora serafino massoni opera sulla grande piattaforma mondiale youtube e su youtube serafino massoni ha circa circa 12 milioni di visualizzazioni e qua vedete bene da una parte la stella di david e dall'altra la croce uncinata serafino massoni va ripetendo va ripetendo che non ci si mette mai contro contro la stella di david mai 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 mettersi contro la stella di david stella di david vuol dire stato di israele vuol dire ebrei e gli ebrei al mondo sono 15 16 milioni tutti gli altri sono circa 7 8 miliardi noi siamo 7 8 miliardi noi che non siamo ebrei siamo 7 8 miliardi e invece gli ebrei sono soltanto 15 16 milioni la metà stanno dentro lo stato di israele l'altra metà è sparpagliata per tutto il mondo eppure gli ebrei ebrei che hanno quasi tutti loro ci hanno i premi nobel i premi nobel poi serafino massoni qua ricorda che ebreo era sigmund freud ebreo era albert einstein ebreo era carl marx chi si carl marx e la rivoluzione sovietica la rivoluzione sovietica fu fatta quasi tutta da ebrei ebrei e il governo israeliano alla corte internazionale lo direbbe lo direbbe lo direbbe che la rivoluzione sovietica quella che rovesciò lo zar lo zar rovesciò la digastia dei romana fu tutta nelle mani degli ebrei e per questo che poi l'urs 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 di joseph stalin riconobbe riconobbe fu il primo stato a livello mondiale a riconoscere lo stato di israele il primo il primo e lo stato israele si ricorda che fu l'urs l'urs di joseph stalin a riconoscere per primo l'esistenza dello stato di israele e quindi 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 diciamo che al tribunale internazionale dell'aia ci sarebbe un bel dibattito ci sarebbe l'intervento del patriarca di mosca kirill kirill che ha detto e ripetuto tante volte che ciò che accade in ucraina è colpa dell'occidente patriarca kirill ha detto che è il capo è il capo della chiesa cristiano greco ortodossa della federazione russa e poi poi ripeto ci sarebbe il governo dello stato di israele alla corte internazionale dell'aia e il governo dello stato di israele ricorderebbe direbbe ma tu corte internazionale dell'aia lo sai o non lo sai che dentro l'ucraina c'è l'esercito ucraino e dentro l'esercito ucraino c'è il battaglione azov che vuole tanto bene alla croce uncinata è il tribunale internazionale dell'aia e per cui diversamente da ciò che accade a milosevic milosevic putin ne uscirebbe vincitore da un processo internazionale all'interno della il tribunale internazionale dell'aia perché tutti sarebbe difeso dal patriarca kirill e dal governo israeliano il governo israeliano stella di david uscirebbe vincitore e il tribunale internazionale dell'aia se non dovrebbe andare ramingo per le strade del mondo con la coda fra le gambe parola di serafino massoni eccolo qua serafino massoni questa è l'ultima opera di serafino massoni un romanzo storico ambientato dentro il terzo light il cuore il cuore di questo romanzo è la famosa famosissima celeberrima notte dei lunghi contelli coltelli all anno 1934 quattro anni dopo ci sarà la cristal nacht la notte dei cristalli e poi intanto ci sono tutte le leggi contro gli ebrei poi ci sarà la shoah 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 vuol dire 5 6 milioni di ebrei europei portati nei lager poi nelle nelle camere gas quindi nei forni crematori ragioni per la quale è il terzo reich il terzo reich dove essere un reich millenario la perse la guerra perché tutti coloro che si che si mettono contro gli ebrei cioè contro la stella di david sono destinati a perdere le guerre capito non so se mi sono spiegato e non so se mi sono spiegato casomai non mi fossi spiegato voi non dovete far altro che andare in libreria comprare una copia di questo romanzo storico il marinaio dell'antile per cui le cose vi saranno tutte immediatamente molto chiare va bene va bene questa questa è la mia considerazione sulla recente sentenza del tribunale internazionale dell'aia capito casomai ci fosse bisogno volatemi putti manderebbe al tribunale internazionale dell'aia il patriarca kirill che il capo della chiesa cristiana greco ortodossa della federazione russa e poi chiederebbe vlademi putti chiederebbe al governo israeliano governo israeliano vai al tribunale dell'aia a ricordare che dentro l'ucraina dentro l'esercito dell'ucraina c'è il battaglione asov con le insegne della croce uncinata ricorda ricorda alla corte internazionale internazionale dell'aia che tutti quelli che hanno la croce uncinata sono destinati a perdere le guerre perché la croce uncinata si è messa contro la stella di david e tutti coloro che si mettono contro la stella di david sono destinati destinati a perdere le guerre capito e poi magari guardatemi putti potrebbe ricordare alla corte internazionale dell'aia che in italia c'è Serafino Massoni Serafino Massoni che questo signore qua che ricorda le cose